Secondo genita di Paul e Linda McCartney, Stella Nina ha vissuto tutta la sua vita sotto i riflettori. Stilista, inglese, vegetariana, madre e amica dei famosi, è la figlia dei Beatles di maggior successo. Disegna il suo primo abito all'età di 13 anni. Accetta uno stage da Christian Lacroix e dopo la laurea in design ripercorre le orme di Karl Lagerfeld diventando direttore creativo di Chloé. Nel 2001 fonda la sua casa di moda e lancia la prima collezione Stella McCartney, ottenendo subito un buon riscontro di pubblico e critica. Stella McCartney conta 33 negozi monomarca, le sue linee raggiungono 100 paesi nel mondo attraverso 600 store fisici e online. Ha disegnato il vestito da sposa e i costumi del Reinvention Tour di Madonna e gli abiti di Sky Captain e The World of Tomorrow. La sua falabella bag è un oggetto di culto ed è stata la prima designer a firmare le divise di una rappresentanza olimpica. Il 30 agosto 2003 si sposa con l'editore Al Zahir Willis dal quale ha avuto quattro figli, due femmine e due maschi. Cresciuta vegetariana e passata al veganesimo e nelle sue linee non compaiono pelle e pellicce ed altri materiali di origine animale. È ovviamente appassionata di musica e suona, ma solo in privato. Già nominata ufficiale dell'Ordine dell'Impero Britannico e stilista dell'anno al British Fashion Award, Stella McCartney è ormai un nome riconosciuto che ogni anno propone pret-à-porter donne e bambino, linee occhiali, profumi, lingerie e accessori. Grazie a tutti.